Nel Museo archeologico di Napoli sarebbe stato immortalato un fantasma. Durante i lavori di restaurazione di un ala di un museo, un addetto notò improvvisamente una sagoma incredulo decise di scattare la foto. E rimase senza parole quando vide che effettivamente la sagoma era apparsa anche sulla fotografia. La foto poi sarebbe stata analizzata e non c'erano alterazioni. Dalle analisi effettuate è ancora sconosciuta l'identità della presunta ragazza. Grazie per la visione!